Musica Riunione in prefettura per coordinare aiuti e accoglienza dei profughi ucraini, Verbagno organizza l'ospitalità. Domani a Domo manifestazione degli studenti delle scuole superiori per dire no alla guerra. Destinazione Est-Monterosa, presentato il piano di rilancio turistico di Macuñaga e della Valle Anzasca. Il mercato di Intra torna come prima della Covid, consentito il transito da Piazzale Fly, ma Piazzale Matteotti. Rotari Pallanza Stresa e Orta San Giulio danno vita al Fondo Uglietti, finanzierà borsi di studio per medici specializzanti. Si corre domenica 6 marzo a Guarnasopra la prima delle cinque gare organizzate nell'ambito del circuito Q3 del Fusio. Buonasera, ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale che si apre con i risvolti locali di quanto sta succedendo in terra ucraina. Per meglio coordinare tutte le raccolte in corso sul nostro territorio, vale a dire i generi di prima necessità, ma anche indumenti medicinali coperti, è stato deciso che saranno i CIS del Qusio, dell'Ossola e del Verbano a coordinare tutte queste attività. Sentiamo però che cosa è emerso da questa riunione. Riunione di coordinamento questa mattina in prefettura per gestire l'arrivo di profughi ucraini sul territorio del VCO. Da ieri ci sono già state le prime richieste di visto temporaneo da parte di persone fuggite dalla guerra che si sono presentate alla questura. Si è parlato delle procedure da adottare, anche delle regole di contenimento Covid per vaccinati e non. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti della comunità ucraina nel VCO e dei consorsi dei servizi sociali. Per quanto riguarda Verbagna, ancora non si sa quante persone potrebbero arrivare. Si stanno valutando situazioni di ospitalità diverse da quelle in famiglia che fino ad ora è stata messa in atto nelle altre città. Abbiamo strutture già disponibili come i CAS esistenti e potremmo accogliere chi arriva all'ostello, alla Sacra Famiglia, negli alloggi del gruppo Abele. Vedremo passo per passo, commenta il sindaco Silvia Marchionini, importante che ci sia un coordinamento per gestire l'accoglienza. E c'è ancora da aggiungere che chi dovesse accogliere i profughi attraverso rapporti diretti deve contattare la questura per le apposite procedure del caso e gli uffici dell'Asla, del VCO per comunicazioni in merito a situazioni di salute, alle questioni legate alle vaccinazioni, visto che sono ancora attive le norme Covid. In ossola intanto il CIS ha istituito un numero telefonico a cui poter far riferimento per i cittadini, le imprese, le amministrazioni per segnalare esigenze, dare disponibilità di doni, aiuti, collaborazioni. Il numero è il 345 99 62 397. E vi abbiamo già riferito della raccolta fondi partita in ossola con il fondo solidale presso la fondazione comunitaria del VCO denominato Ossola Braccia e dove il comune domese ha già versato 20 mila euro. Intanto Domo d'Ossola si prepara, quella che è preannunciata come una grande manifestazione degli studenti che domani vanno in piazza, il concentramento è alle 8 in via Fornara, poi il corteo sarà lungo le vie della città. In serata invece l'appuntamento è a Villa d'Ossola. Sotto lo slogan Insieme per la Pace, gli studenti delle scuole superiori di Domo d'Ossola si ritroveranno domani mattina in piazza per dire loro no alla guerra nata dagli studenti del liceo Spezia. L'iniziativa coinvolgerà anche le altre scuole della città, dunque Enaip e Istituto Marconi, Galletti e Inaudi. L'appuntamento per tutti alle 8 di venerdì mattina in via Fornara, sede del liceo. Il percorso che gli studenti hanno concordato con le forze dell'ordine prevede il passaggio in via Scappaccino, Cassino, Romita, Vicolo Facchinetti, poi Piazza Chiesa, Mercato, Piazza del Municipio. Al termine della sfilata lungo le vie della città è previsto un momento di confronto con la comunità ucraina locale. Alena, una giovane donna che a Domo d'Ossola vive da tempo, porterà infatti la sua testimonianza. Il tema delle guerre è stato affrontato in tutte le scuole della città, sui cancelli delle primarie Milani e Kennedy da ieri e sul muro esterno della scuola media Floreannini è stato affisso lo striscione firmato da tutti gli studenti che recita l'Italia ripudia la guerra, anch'io la ripudio. Un momento di riflessioni sulle drammatiche conseguenze della guerra è quanto propone domani sera anche l'oratorio di Villa d'Ossola. Alle 20.30 prenderà avvio dalla Chiesa del Cristo Risorto con arrivo al piazzale del Centro Culturale La Fabbrica una fiaccolata silenziosa. Al termine è prevista la proiezione di un video di Gino Strada, il medico di emergency scomparso lo scorso anno da sempre in prima linea nei teatri di guerra e che la guerra l'ha sempre condannata. Il presidente della regione Alberto Cirio oggi a Novara ha annunciato che arriveranno sabato pomeriggio a Torino sette bimbi ucraini malati di tumore che saranno accolti e curati all'ospedale infantile Regina Margherita. Ho dato la nostra disponibilità all'ambasciatore ucraino in Italia, ha ricordato Cirio, per ospitare i bambini malati in fuga. In questo momento ci sono sette bimbi con i loro fratellini, quindi sono dieci in tutto, accompagnati da genitori e nonni che stanno raggiungendo l'Ucraina meridionale al confine con la Moldavia, dove sabato mattina l'esercito gli consegnerà un pullman che la regione Piemonte ha predisposto. Dall'aeroporto della Romania, ha spiegato ancora Cirio, il pullman raggiungerà il confine con l'Ucraina, raccoglierà tutti i bimbi che poi voleranno a Torino, dove saranno appunto accolti dall'ospedale Regina Margherita. Tutto questo grazie alla disponibilità di aziende private e di cittadini del Piemonte che hanno messo a disposizione aeree e pullman per dimostrare ancora una volta il grande cuore del Piemonte. E a proposito di generosità andiamo a Domenia, dove la città si è mobilitata per una grande raccolta di generi alimentari e di generi di prima necessità da inviare in Ucraina. Gli omenesi sono generosi, l'abbiamo sempre visto, l'abbiamo sempre saputo anche in questa circostanza purtroppo terribile che è la crisi in Ucraina. Si stanno raccogliendo tanto materiale, Giovanni? Sì, come al solito gli omenesi rispondono in un modo bellissimo. In una giornata abbiamo già raccolto, stiamo confezionando una quindicina di pacchi di medicinali e pannolini per bambini, riosferizzati, insomma, molta roba. In più, tante coperte, cuscini, lenzuola che servono anche quelli, veramente una risposta bellissima. Noi siamo già pronti a spedire al centro di raccolta di Domodossola il primo carico e continueremo la raccolta. Diciamo pure il posto dove se qualcuno vuole portare qualche cosa lo può fare. Beh, per gli omenesi tutti sanno che è Zio Ciccio nel laboratorio di Zio Ciccio, di fronte al penne market. Valentino, come state vivendo voi, ucraini, questa tragedia, insomma? In Ucraina stiamo vivendo in proprio tragedia nera. Io sono un po' abito nell'ovest del paese, quindi da noi, come qua in Italia, cercano di accettare quelle persone che stanno arrivando da qui o stanno arrivando dall'est del paese, di dare la mano, di dare alloggio, cibo e tutto quanto, come siamo anche noi qua, tutti vicini, e vogliamo, assieme a voi, che date gran aiuto a aiutare con quello che possiamo. Ed ora cambiamo argomento. Partecipato incontro, confronto, mercoledì alla Congress House di Macunaga per la presentazione del progetto Destinazione Monterosa S, il piano di rilancio turistico della Perla del Rosa e della Valle Anzasca, che è stato affidato ad uno studio specializzato. Tra le azioni per il riposizionamento turistico del territorio, anche la formazione degli operatori. Destinazione Monterosa S, una sorta di masterplan per il turismo e per lo sviluppo di Macunaga e dell'intera Valle Anzasca. Come nasce e come si sviluppa questo progetto? Allora, questo progetto nasce innanzitutto dalla voglia di noi operatori e amministrazione, in questo caso appena insediata, di riportare agli albori della cronaca quella che è Macunaga con la pariteste del Monterosa e soprattutto la Valle Anzasca. Infatti questo progetto sarà un progetto di valle e non più di destinazione Macunaga. Un progetto da oltre 30.000 euro per il riposizionamento di Macunaga e dell'intera valle. Perché? Perché Macunaga e l'intera valle devono uscire dalla valle, andare sul territorio e andare a farsi conoscere nel mondo. Per organizzare il tutto in partenza ci vogliono tutta una serie di programmi, di investimenti, altrimenti senza investimenti non si fanno le opere. Che cosa serve a questo territorio? Macunaga storicamente è un posto turistico e secondo il nostro modo di vedere, ma soprattutto l'analisi che abbiamo fatto avendo esperienze internazionali di questo tipo di progetti, secondo noi c'è bisogno proprio di ridare un po' una sinergia, quindi una messa a sistema di tutto quello che c'è, c'è veramente tantissimo, noi siamo qua da un paio di giorni e abbiamo visto una marea di cose, tanto prodotto, che magari ha necessità di essere un po' più aggregato e quindi di essere messo a sistema per il nuovo modo di acquisto del prodotto turistico da parte dell'utente finale. Questo in sintesi è il cuore della strategia. Quali saranno le prime azioni o le più urgenti? Beh, le prime azioni, insomma, l'idea è pensare lontano ma gire vicino e quindi immaginiamo che da subito ci siano alcune azioni per un coordinamento dell'immagine e del messaggio che verrà comunicato al mercato, dopodiché subite azioni commerciali, quindi educational, eventi per la stampa, quindi proprio posizionamento commerciale puro. Questi saranno proprio i primi due momenti e poi una grossa parte che è un po' la novità per questo tipo di progetto legata alla formazione degli operatori perché è corretto che tutti possano competere allo stesso modo e siano anche pronti ai nuovi strumenti con cui oggi si fa turismo. Qual è il mercato di riferimento? Beh, il mercato di riferimento in questo momento è abbastanza Italia su Italia e poi Nord Europa. Lei tra cinque anni come se l'immagina a Macugnaga e alla Valle Anzasca? Beh, me lo immagino un posto pieno di gente rispetto al numero totale delle camere disponibili perché lei sa bene che insomma il turista si misura in posti letto perché immaginiamo non una situazione di sovraturismo, quindi di turismo che sia sostenibile, mi immagino un'economia circolare, quindi l'idea è di creare posti di lavoro per le persone che vivono nella valle, questo è proprio uno degli obiettivi che ci siamo dati e con un turista che rispetto a oggi abbia la voglia di spendere anche qualcosina in più. E mercoledì si è riunito il Consiglio Comunale di Verbania, sentiamo di che cosa si è parlato. Approvata in Consiglio Comunale ieri sera la prima variazione di bilancio dell'anno per aggiornare i conti in vista dell'arrivo di quasi 20 milioni di euro dal PNRR tramite il bando di rigenerazione urbana. Hanno ribadito le critiche già mosse in sede di discussione del bilancio Mattia Tacchini di Prima Verbania e Gian Domenico Albertella di Insieme per Verbania che hanno contestato la scelta di realizzare prima la riqualificazione di Piazza Ranzoni e successivamente la circonvallazione leggera lungo l'argine del San Giovanni. Albertella ha anche criticato la decisione di finanziare la realizzazione del nuovo parcheggio di Via Crocetta in vista della pedonalizzazione di Piazza Garibaldi con i fondi dell'alienazione della ex caserma di Pallanza che quindi non sarebbero certi perché legati al fatto che l'immobile venga venduto. Botta risposta poi all'interno della minoranza tra Tacchini e consiglieri della Lega. Non so se alcuni consiglieri fanno ancora parte dell'opposizione ha detto Tacchini riguardo la decisione della Lega di votare a favore della variazione come già fatto per il bilancio. Abbiamo deciso di allinearci al sindaco e alla giunta per dare un segnale forte di responsabilità in questo momento ha ribattuto Immovilli. Questa giunta ha lavorato bene la Lega vuole fare la sua parte. Credo che ci possa essere sempre una prima volta per cambiare il modo di affrontare le questioni politiche. Il sindaco Silvia Marchionini ha lanciato un appello a un'ampia condivisione dei numerosi progetti che partiranno a breve. Non sarà facile il compito che ci aspetta. Abbiamo davanti un imbuto di lavori di opere pubbliche che saranno poi completate dalla prossima amministrazione. Dovremo rispettare i tempi, il rischio di dover restituire i soldi. Dobbiamo essere tutti impegnati e attenti. Il 30% dei progetti deve essere compiuto entro marzo 2024. Aspettare e rimandare vuol dire rinunciare al finanziamento. Abbiamo iniziato dai progetti che erano pronti. Anche per questo invito i consiglieri a sostenere il più possibile all'unanimità. Dobbiamo essere tutti impegnati e attenti. Ha aggiunto, andiamo incontro a gravi disagi per i cittadini, per le opere pubbliche, i costi alti delle materie prime e anche la macchina comunale vivrà un periodo di grande stress. Approvata la Convenzione per la condivisione del segretario comunale Antonella Moglia con i comuni di Carcoforo, Salasco e Civiasco in provincia di Vercelli. Approvato anche all'unanimità un ordine del giorno proposto dal Movimento 5 Stelle di condanna per quanto sta accadendo in Ucraina e di solidarietà al popolo sotto l'attacco russo. Rimaniamo a Verbania per dirvi che torna la normalità al mercato di Intra come prima del Covid. Sarà di nuovo consentito il transito dalla rotonda di piazzale Flaim verso piazza Matteotti e Corso Garibaldi permettendo così un accesso più agevole e diretto verso il parcheggio multipiano di via Rosmini. Grazie alla collaborazione di alcuni ambulanti al lavoro degli uffici della nostra Polizia, segnala l'assessore alla viabilità Patrick Rabaini, siamo riusciti a dare una nuova disposizione ai banchi in quella porzione di mercato. L'amministrazione comunale verbanese ha deciso di prorogare sino al 30 giugno la gratuità dei plateatici per gli esercenti. Il Parlamento ha stabilito che il canone sospeso per l'emergenza Covid dovrà essere ripristinato a partire dal 1 aprile, ma il Comune provvedrà con fondi propri fino a fine giugno come richiesto dalle associazioni di categoria anche alla luce dell'aumento dei costi dell'energia. Ed ora andiamo ad Arona, anche qui c'è stato Consiglio Comunale. Si è aperta con messaggi di solidarietà al popolo dell'Ucraina la seduta di Consiglio Comunale di Arona. Hanno preso la parola il presidente Ferruccio Cairo, il sindaco Federico Monti, il consigliere di Arona domani Roberto Buttà, il consigliere di maggioranza Davide Casazza e il vice sindaco Alberto Gusmeroli. Buttà ha raccomandato di accogliere soprattutto se ci fossero dei rifugiati nella zona di Arona. Unanime è stato il sostegno di un popolo invaso dalla Russia e in fuga dalla guerra. Il consiglio ha approvato l'unanimità la convenzione con il Comune di Cureggio per il servizio di segreteria. Il vice sindaco Gusmeroli ha presentato le modifiche del DUP e le variazioni di bilancio. Per l'asilo nido di via Mottarone è previsto un progetto per le norme antisismiche dell'importo di 32.000 euro. Con i fondi del PNRR saranno messi a norma con trasformazione a LED i 2.500 punti luce della città. Sarà totalmente a carico del Comune di Arona la passerella pedonale a lato della statale 33 del Sempione che unirà la rampa con il Cidbar. Per l'assistemazione del magazzino comunale di via Monterosa sono previsti 15.000 euro. Anche per la stagione 2022 sarà attivata la spiaggia del Sorriso di Corso Europa con servizi igienici e bagnino. Si vedrà anche se sarà possibile avviare un servizio di ristoro. Gusmeroli è assicurato sulla balneabilità della spiaggia anche per la prossima stagione. Infine un contributo è previsto per l'incubatorio del pesce persico. L'assessore Moniamazza ha illustrato il potenziamento dell'organico del Comune con l'assunzione di quattro istruttori per l'ufficio tecnico, ufficio tributi, patrimonio e formazione. Ancora un direttore amministrativo e due operai specializzati. Carla Torelli di Aronodomani chiedeva l'Umi sul Lideo. La risposta è stata che per il 2022 sarà rinnovata la gestione del precedente conduttore, mentre per il CIDBAR Monti ha annunciato che c'è una manifestazione di interesse da parte di una società lombarda con 500 dipendenti che gestisce centri balneari sul lago di Como e all'Idroscalo di Milano. Sono 1.787 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Piemonte. L'unità di crisi della regione ha registrato anche sette nuovi decessi, nessuno nella giornata di oggi. 2.251 sono invece guariti in calo. I ricoveri sono 36 nelle terapie intensive, meno 4, 798 nelle parti ordinari, meno 42. Ora siamo all'appuntamento del giovedì condonare per crescere. Oggi vi presentiamo il fondo memoriale voluto dai Rotari Pallanza-Stresa e Orta-San Giulio con la famiglia Uglietti per ricordare Nanni Uglietti. Sarà intitolato Nanni Uglietti che è stato un socio rotariano per 50 anni, più di 50 anni socio del nostro club e i cui figli fanno parte dell'Orta-San Giulio. Qual è la volontà? Uno dei grossi problemi che c'è è avere medici specialistici che vengano nella nostra zona. Noi offriamo delle borse di studio, alcune miliardi di euro l'una ogni anno per partecipare alle spese di mantenimento, per invogliare i giovani laureati a venire anche in periferia a fare la loro specializzazione, sperando poi che restino nella nostra zona. Com'è nata questa idea? È nata per fare un ricordo di un socio che è stato veramente aperto sul sociale e veramente amico di tutti. Presidente, in che modo concorre la fondazione a questo progetto? Mettendo a disposizione quello che è uno dei nostri strumenti, che è il fondo, in questo caso è un fondo memoriale perché è nel ricordo di una persona che credo meritasse proprio di essere ricordata e quindi noi gestiremo questo fondo per conto del Rotary Pallanza-Stresa, del Rotary di Orta e dei familiari di Nanni Uglietti. Quindi è uno dei tanti strumenti che noi utilizziamo per intercettare le donazioni e farle riversare su un service che sia un servizio che sia a vantaggio della comunità, in questo caso i nostri ospedali. Il fondo parte con una dotazione iniziale di quanto? Di circa 10.000 euro, di cui 3.000 a patrimonio e 7.000 erogabili, che sono le prime donazioni fatte dai due club dei Rotary e dai parenti, con un impegno che queste donazioni continueranno almeno per un triennio, quindi per dare una continuità a questo fondo. Un progetto importante, che ha ricaduto importanti per l'AS del BCO? Sì, interpreta molto bene quelli che sono i bisogni che l'azienda sanitaria ha di collaborazione con il territorio. Ci dà molta fiducia, così come ci hanno sempre dato fiducia tutte le donazioni che sono arrivate nel tempo e continuano ad arrivare, ma soprattutto ci fa fiducia il fatto che sia un progetto che avrà un futuro, che continuerà a esistere, in questo fondo continueranno a poter essere immesse delle risorse a favore di questa che per noi è una risorsa fondamentale perché le risorse professionali sono ciò su cui si basa il nostro lavoro. Se non abbiamo i medici, se non abbiamo i professionisti, non possiamo fare molto. Al Teatro Maggiore di Verbagna, sabato, gli spettatori accompagnati dallo storico dell'arte Maurizio Vanni saranno condotti alla scoperta dell'idea del presente, passato e futuro nel pensiero artisti, filosofi, scienziati da Sant'Agostino a Picasso, da Einstein a Galileo tra narrazione, recitazione e musica, ingresso offerta, libere e i proventi saranno devoluti all'Emporio dei Legani. Vanitas, l'inganno del tempo, appuntamento al Teatro Maggiore di Verbagna, sabato 5 marzo alle 21, nell'ambito di piacere e cultura, un racconto scenico, che cosa ci aspetta? Ci aspetta un racconto scenico e una storytelling sostanzialmente, con una voce narrante, due attori e un musicista, oltre al direttore che chiaramente seguirà lo spettacolo. Ci sono quattro personaggi importanti di tempi diversi, che hanno avuto ruoli diversi nella società, ma che chiaramente hanno, come dire, condizionato molto il loro essere e il loro esprimersi attraverso il tempo. Vanitas, di Econ, Maurizio Vanni, è anche però uno spettacolo attuale. Sì, certo, il problema dell'attualità è fondamentale perché Vanitas, che doveva essere presentata presentata nel dicembre del 2020, in effetti è stata rimandata fino ad oggi e man mano ha subito il cambiamento che la pandemia, il tempo, le trasformazioni delle istituzioni culturali e le necessità varie ci hanno imposto. Nel frattempo, però, Piacere Cultura non è rimasto fermo e ha proposto una trilogia anche nel 2021. Sì, alla trilogia del 2020, eseguita quella del 2021, che prendeva già atto delle trasformazioni e, come dire, mandava un messaggio della necessità di queste trasformazioni che erano poi la responsabilità sociale, la ecosostenibilità e soprattutto la creazione di benessere nelle e attraverso le istituzioni culturali. Uno sguardo alla nostra programmazione perché questa settimana in Storia a quattro zampe vi proporremo come addestrare un amico a quattro zampe attraverso il gioco di Daniela Giavini e ancora i problemi di una simpatica gattina alle prese con una insufficienza renale. La trasmissione a cura di Marcello Perugini è in onda giovedì alle 20.35, poi con repliche venerdì alle 13.30 e sabato alle 18.55. Ora invece allo sport, la corsa in montagna. Ritorna il Challenge Accusio, cinque gare più quella Jolly, il Vertical, il primo ottobre, alla Mottarone, tanta voglia di correre, tanta voglia di stare insieme, finalmente dopo due anni di sosta forzata ai box. Esatto, finalmente quest'anno sembra che vada tutto liscio, è finito il Covid, c'è molto fermento, l'abbiamo già visto nella prima gara che ci sono oltre 300 iscritti, il Challenge comunque si rivela un successo anche quest'anno e come novità appunto abbiamo giunto il Vertical che è la gara Jolly. Parte domenica. Parte domenica, ecco. Parte domenica con la prima gara che si fa a Quarna, c'è il Q-Trail e tutte le gare hanno aggiunto la camminata non competitiva per poter dare spazio anche, non solo a chi vuole competere in faticosi trail ma anche nella camminata. Poi quello che è bello, l'Unione fa la porsa, tante società e tante associazioni si sono messe insieme per realizzare tra virgolette questo prodotto perché ci sarà il trail Massa Bruciata, ci sarà poi la gara organizzata dal vulcano di idee Max Vassesia, ci sarà il trail a Carcegna per poi chiudere appunto con l'inferno trail a Gravellone e poi con il Vertical, la gara Jolly del primo ottobre, però l'Unione fa la forza. Esatto, l'Unione fa la forza, infatti ci aiutiamo tutti, come ha detto Max Vassesia che è un vulcano di idee, poi abbiamo delle gare di notte, delle gare di giorno, abbiamo dei Vertical, c'è tutto e più ci aiutiamo, siamo tutti amici e facciamo una bella squadra. Giovedì alle 21 l'appuntamento è con Spazio Neve. Nuovo appuntamento con Spazio Neve questa sera perché è la stagione invernale con poca neve, però continua e arriva nel momento bello dove ci sono le gare quelle che contano, quelle importanti. ospiti questa sera in trasmissione, allenatori e tecnici dell'Ossola Ski Team, che è uno dei team maggiormente vincenti in questa stagione, abbiamo Massimo Caramello che è allenatore, ciao Massimo ci racconterai tutto, e poi due giovani virgulti, Fabio Ferraris che conosciamo bene per i suoi successi ottenuti nelle stagioni scorse e Alessandra Tabarini che ci racconteranno come sono andate le ultime gare e tutto quello che hanno fatto. Avremo tante tante cose da vedere, due campionati regionali, uno di sci di fondo, uno di sci nordico, delle gare di circuito, addirittura delle gare internazionali che si sono tenute a Dobobianca, i bimbi sono pronti, anche loro vogliono vedere la trasmissione, quindi insieme a loro stateci anche voi e vi aspettiamo. Io mi fermo qui, grazie e buon proseguimento di serata.